Sono accusati di truffa e bancarotta fraudolenta i due amministratori di una concessionaria di auto con sede nel Piacentino, arrestati nei giorni scorsi da carabinieri e guardia di finanza. Le indagini, avviate dagli uomini dell'arma di Castel San Giovanni, sono scattate dopo le denunce e le querele rese in tempi e luoghi differenti da parte di nove vittime che descrivevano in modo analogo i raggiri subiti nel corso dell'acquisto di un'auto dalla concessionaria. Il modus operandi era sempre lo stesso. I clienti, dopo aver visionato su un sito online l'annuncio della vendita di un'auto, venivano indirizzati all'esercizio commerciale gestito dai due indagati per visionare direttamente il veicolo, stipulando dei contratti per iscritto e rilasciando degli acconti. Una volta intascato l'anticipo, i due amministratori iniziavano a presentare scuse sempre diverse per giustificare ritardi nella mancata consegna del mezzo fino a rendersi definitivamente irreperibili al telefono e abbandonare i locali dell'autosalone. Inoltre i truffatori avrebbero distratto dal conto corrente societario tutti gli incassi per un valore di oltre 250.000 euro, in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio.